Questo è un Dreadnought degli Orchi che viene dalla scatola base di seconda edizione. Dai, dai, dai! Telefono. Io l'ho appena appadellato. Proprio come per gli dei del caos, anche le emozioni degli Orchi si riflettono. Orco, orco. Dai, vieni! No! Sì? Dai! Oh! Chi? Scritto con la K. Non la K fucile. La K così. Anche con la K, ci devo.